Il nostro corpo è ancora in parte un grosso mistero. Ci sono moltissime cose che non sappiamo. Ogni giorno il nostro corpo esegue azioni e modifica parti senza il nostro consenso. Che birichino! Oggi vi aiuterò a capire in parte cosa esso è in grado di fare. Cominciamo! Numero 1 La nostra pelle compie molti processi a noi sconosciuti per proteggerci. Sapete che ogni giorno ne perdiamo un po', o almeno la parte superficiale. Sapete quanta? Quasi un grammo! E nel corso della nostra vita ne perdiamo circa 20 kg. Ogni 3-4 settimane, infatti, cambiamo completamente lo strato superficiale della pelle, l'epidermide. In pratica, ogni minuto 30.000 cellule muoiono per essere sostituite da nuove. Questo ricambio è assicurato dal continuo processo di crescita dell'epidermide, dall'interno verso l'esterno. I piedi e le mani hanno uno strato lucido ancora più superficiale dell'epidermide e serve a proteggere queste zone. Numero 2 Ma come faranno i personaggi dei nostri manga e anime preferiti a ingurgitare tutto quel cibo ogni volta, come Goku o Rufi? Beh, sembrerà tutta invenzione, ma anche noi potremmo farlo, e non solo, potremmo anche far sciogliere un'intera macchina dentro al nostro stomaco. Ok, la probabilità che vi venga offerta un'automobile a merenda è scarsa. L'acido cloridrico, uno dei liquidi più corrosivi esistenti, è presente nel nostro organismo durante la digestione, rilasciato dalle cellule parietali dello stomaco. Questo potente acido serve a dissolvere le sostanze più coreacee, tra le cellule che compongono i cibi. Numero 3 Noi maschetti siamo esseri facilmente suscettibili a impulsi esterni. Con impulsi esterni intendo dire che ci basta vedere una bella tipa e siamo tutti attratti dai suoi enormi... ...occhi e dai curvilini ai fianchi. Spesso alcuni addirittura hanno grossi problemi a contenere l'amichetto nei pantaloni. Ma sapete che cose del genere succedono anche involontariamente? La maggior parte degli uomini ha erezioni ogni ora, ora e mezza, durante la notte. Il nostro corpo in alcuni casi è molto più attivo nella notte rispetto a quando siamo svegli. La circolazione del sangue e il testosterone durante la notte possono portare a queste erezioni involontarie che a quanto pare sono parte integrante della cosiddetta fase REM. Numero 4 Cominciamo da una cosa abbastanza semplice. Quante cose sapete delle vostre ossa? Sapete che sono in grado di fare cose incredibili ogni giorno? Tra queste, una in particolare è molto interessante. Abbiamo ossa indistruttibili. Alle sollecitazioni esterne non sono molto resistenti. Infatti, se vi cadesse un aereo su una gamba, sicuramente non ne uscireste vivi. Beh, non penso un aereo possa cadervi su una gamba, ma state attenti. Quando si tratta di sopportare un peso in modo passivo, esse possono sostenere fino a 9 tonnellate. Ogni volta che le sforziamo per un certo periodo, continuano a potenziarsi, consentendoci di avanzare di livello e passare a qualcosa di più grosso. Level up Numero 5 Moltissime persone dicono che a ogni età il nostro odore cambi e per provarlo, alcuni ricercatori hanno riunito una cinquantina di persone di età diversa. Questo piccolo esperimento ha dimostrato solo in parte la veridicità delle cose. I ragazzi, gli uomini e le donne di età dai 10 ai 50 anni non emanano odori particolari, a parte il sudore dei teenager. Gli anziani, al contrario, hanno veramente un odore o profumo, come volete, tutto loro. Un odore abbastanza rilassante e confortante secondo i ricercatori che porta le persone a rilassarsi appunto ed abbassare la guardia. Questo spiega come mai non riusciamo mai a rifiutare il cibo che viene offerto dalle nonne. Grazie per aver guardato il video, speriamo vi abbia almeno un po' interessato e lasciate tanti mi piace, ci sentiamo alla prossima gente.